Abbiamo subito pensato a Pola come uno dei vertici di un triangolo ideale e una questione di vento è molto avvantaggiata perché stando nel vertice tra l'Adriatico di qua e il Golfo del Quarnaro di qua c'è sempre vento. Abbiamo, io besto dire, un'eplice, 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 un'eplice per la chanera dioptare il suo volto su un'eplice, 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 più grande, più in un'esplice che sono brodi di circa 20 metri, con una possibilità di più costante con due stai per i più costante, il mio più grande di questo è in questo nell'Adriatico del quarno. Crescente di questo? È vero che è un'esplice per il progetto del 3STS uspili staviti PULU in una carta in un certo modo Trst PULA Venecija questa promozione è la prima promozione che in due giorni avviene PULU in quel ruolo europeo che è sempre stato grazie tutta la città di Pola per la vera città questa sfida di portare questa regata con i Maxi Yacht qui in Istria Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Start Maxi Yacht costal regate Buongiorno a tutti Abbiamo fatto questa bellissima regata con partenza da Trieste arrivo a Pola Abbiamo avuto un tempo bellissimo 18 anni è stato veramente una bella manifestazione di Storz Storzare Ci sono un'escrizione ci sono un'escrizione di una piccola piccola regatta, che conosciamo qui in Pesaro. E questo è un modo logico che si chiama e attivare in questo mondo. Questo è sempre un nuovo vrhovski del lavoro che dovrò vrhovske esporta a la nostra meraviglia. E io sono sempre qui come logistica base per cercare le cose e la meraviglia e la meraviglia la manifestazione. Abbiamo arrivato il Brione, tutto da Rovinja e dentro di Brione siamo tornati. Sve sreche, siamo arrivati al primo presegno. Siamo arrivati a circa 10 minuti, quindi 5 minuti. Ma, ragazzi, sono top. È stato ottimo, è stato ottimo. Siamo qui per migliorare, per sapere il bosco. È assolutamente positivo. È stato ottimo, guardando i nostri occhi, guardando i nostri occhi, vi consiglio che, se non si può, non si può vedere solo Hrvatska, ma non si può vedere solo ma non si può vedere la terra. La natura, le isole, le mare è difficile trovare in tutto il mondo un paese molto simile. E soprattutto anche gente simpatici che vogliono da mangiare. Prvo' prato in povesti Maxi in Puli. Ovi su mali koraci, ali entuzijazam u cijelom klubu, svi prijatelji i svi oni koji nas podržavaju. Grad, turistička zajednica, Rena Hospitality Grupa, Uljari, Nari, i jednostavno svi kažu da, idemo dalje, idemo napraviti sljedeće godine još veće kore.